Ho detto fra me e me, ah che ganzata, con un'attrezzatura sola faccio tutto, me lo porto dietro, non ho bisogno di portarmi dietro la lunghina, non ho bisogno di portarmi dietro tante cose perché con questa monto. Io ho fatto questo errore anni addietro quando ho iniziato a studiare il programma parelli e poi ho scoperto con il tempo invece che per il cavallo non era esattamente la stessa cosa. E così ho due redini. Gli svantaggi però ci sono e che è poco precisa perché c'è una delle redini che è attaccata qua giù in basso e l'altra invece che è attaccata più in alto e quindi non c'è una grande precisione. Il secondo problema, abbiamo un moschettone abbastanza pesante attaccato qua sotto alla capezza e che ogni volta che, soprattutto quando ci muoviamo al trotto, fa questo movimento qui. Vi assicuro che questo dà fastidio a tutti i cavalli perché i nodini qua sopra vedete che quando io muovo il moschettone i nodini si muovono e urtano contro la pelle del cavallo.